Stasera è la prova più importante perché questa basilica ha una sua risonanza ha una sua qualità sonora speciale abbiamo dei specialisti come Thierry Cudus che può far girare i suoni in una certa maniera può fare dei movimenti sonori che naturalmente io non potrei fare direttamente ho il mio assistente di Berlino che ha preparato molti esempi sonori è praticamente un test come se ci fosse un test con tanti musicisti gli altoparlanti sono i miei musicisti e dopo questa esperienza posso rimettermi a lavorare la versione finale della composizione grazie 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 grazie